Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, come potete leggere dal titolo questo fine settimana sono totalmente impazzito infatti ho deciso di approcciare la weekend league d'ora in avanti così raga quelle che giocherò saranno tutte quanti delle challenge e per questa prima settimana ho deciso di partire subito col botto quindi mi sono presentato così di ignoranza con 11 portieri, voi direte vabbè io non ci credo, non è possibile, non è vero invece così è successo, c'è stato anche il record ufficiale di vittoria che in precedenza era 7 non vi spoilerò ancora quanto ho fatto perché lo vedrete a fine video a breve passiamo a vedere gli 11 eroi raga perché sono degli 11 eroi che ho utilizzato durante la weekend league e poi ci andiamo a vedere insieme una partita leggendaria, veramente è stata una partita clamorosa che solo al pensiero già insomma mi ricordo la fatica che ci è voluta però la ripercorreremo insieme quindi senza perderci troppo in chiacchiere passerei subito sulla schermata così vi presento gli 11 campioncini con i quali sono andato a giocare questa weekend league eccoli qua, e sono effettivamente come vi dicevo 11 portieroni in porta c'è Yashin perché come al solito lui non mi sono mai permesso di toglierlo visto che è l'unico che mi ha dato sicurezza tra i pali vedete che ha fatto anche 3 gol, alcuni anche decisivi perché è l'unico che ha i piedi buoni quindi batteva punizioni al rigore, ovviamente i gol sono arrivati su calcio di rigore poi avevamo una linea difensiva composta da Pope come terzino che diagonali che faceva sto Pope clamoroso, non si zompava così come da DC non si zompava Jordan Pickford con 5 di piede debole usciva pure benissimo palla al piede si fa ridere però è così, ma non vi preoccupate che quando arriveriamo là davanti non avete idea quello che è successo l'altro DC era Franco Armani che non blinda la porta del river ma ha blindato la difesa di Riberovski, io vi assicuro che Adani non ci ha capito niente questo è uno dei migliori giocatori che io abbia mai provato e fa ridere, ma questo veramente non si saltava raga così come non si saltava sto Zentner che ha 71 di velocità quindi è anche decente come giocatore e l'ho utilizzato da terzino faceva anche lui delle belle diagonali, infatti vedete c'è addirittura un assist poi ho optato per una mediana da piedi buoni ovvero Neuer ed Ederson Neuer addirittura potete vedere 3 gol e 8 assist mentre per quanto riguarda Ederson addirittura 2 gol e 10 assist voi dite vabbè dai ma che cosa stai eh raga è così, è assolutamente così sull'esterno c'erano Alisson da una parte con una rete 7 assist dall'altro lato invece c'era Keylor Navas con una rete e un assist lui è quello che diciamo di tutta la squadra era proprio quello più fuor d'acqua raga ma io adesso vi faccio vedere gli attaccanti voi gli attaccanti penserete che sono statistiche da squad battles ma non è così tutte quante partite di Weekend League raga Jordi Masip 29 partite 27 gol e 25 assist ragazzi 27 gol e 25 assist un portiere 1,80 m 4 di piede debole era pure agile sto coso io vi assicuro che questo quasi quasi meglio da punta che in porta fa pure dei bei tunnel direzionali poi vedrete ma l'insospettabile l'insospettabile è Oblak Ian Oblak 31 partite 38 gol e 16 assist 38 gol questo ha fatto meglio di qualsiasi vostro attaccante Weekend League io ci scommetto quello che volete voi e voi direte vabbè contro chi hai giocato raga ho giocato 30 partite da matchmaking da Weekend League poi vi svelerò il risultato però tutte legit vi assicuro che non c'è stata neanche una partita nella quale ho fatto un cambio con un giocatore di movimento visto che non li avevo neanche non potevo fare sostituzioni perché nel momento in cui potevo mettere un portiere mi diceva non puoi togliere un giocatore di movimento perché me li considerava giocatori di movimento e quello che entrava portiere quindi non potevo neanche fare le sostituzioni e proprio a tal proposito assume ancora più rilievo e epicità la partita che andremo a vedere perché ha avuto un doppio fattore di difficoltà quindi fatta questa analisi sulla squadra passiamo a vedere questa partita vedete l'avversario qui si presentava con questo 5-3-2 un po' esotico con 75 di intesa però insomma giocatori ce li aveva tranne quei difensori che non erano proprio il top del top ma io raga va sicuro mettetevi comodi mettetevi comodi perché questa partita qua è tutta da vivere guardate già l'ignoranza se io mi presentavo con un 4-4-2 perché volevo fare il bel gioco ma guardate Pickford come entra a recuperare il pallone Pope come imposta guardate guardate come gira sta squadra cioè paradossalmente raga ho avuto un'esperienza di gioco migliore con sta squadra che ultimamente con con la mia principale guardate qui che scambi e guardate Oblak come va a finalizzare ma io ve lo devo far rivedere guardate che scambi che fanno questi davanti tutti di 1-2 palla dentro Oblak di prima col mancino boom portiere non può nulla subito vantaggio così dal nulla ci presentiamo ma voi immaginatevi le risate raga che magari si facevano gli avversari quando vedevano una squadra full portieri e poi in realtà mi beccavano che ero lì in modalità full tryharding ma la cosa divertente è che non c'è mai stata una partita che ho perso in maniera proprio indecorosa è chiaro ci sono tante partite che sono finite 6-7 però è normale perché io praticamente facevo una fatica immensa a difendere se beccavo quello che mandava in profondità i giocatori con l'L1 e ci giocava con i filtranti io praticamente non potevo nulla però anche in quelle partite lì me le giocavo con dignità è capitato che alle volte andassi in vantaggio che alle volte alle volte comunque segnassi non ho mai concluso una partita senza segnare e guardate qui ragazzi qui un altro scambio pazzesco da sto Oblak e sto Masip Oblak che si presenta davanti alla porta eppure di destro a giro in sacca la rete del 2-0 e voi penserete vabbè tutto facile fino a qui questo magari mezzo senza mani perché poi è chiaro il matchmaking era bilanciato rispetto all'andamento che avevo se non erro quando ho fatto questa partita ero 4 vittorie 20 sconfitte con una disconnessione quando poi vi dirò il risultato finale più tardi insomma vi dirò poi una mia sul punteggio ma io vi garantisco che potevo fare di più sono sicuro che almeno ad 11 se veramente cacciavo delle prestazioni top si poteva fare perché 2-3 partite le ho le ho mezze trollate una in particolare la stavo vincendo 4-1 e l'ho persa 5-4 perché i miei giocatori non ne avevano veramente più e lui mi aveva fatto i super sub a metà secondo tempo che insomma mi avevano dilaniato e un altro paio di partite ho avuto delle occasioni nitidissime che i miei giocatori ovviamente poverini non mi hanno finalizzato e ho tipo perso 3-2 2-1 quindi capite che secondo me qualche win in più si poteva fare qui intanto 15esimo minuto che scorre in maniera abbastanza morbida qui il problema fondamentale anche era un altro perché guardate quando mi attivavano il pressing io praticamente facevo una fatica in mano a uscire perché mi ritrovavo puntualmente la squadra perma schiacciata e chiaramente non avevano né buoni passaggi né buoni movimenti perché sono tutti quanti pesci fuori d'acqua infatti uno dei grossi problemi che avevo in difesa non era neanche tanto il fatto che i giocatori non fossero veloci ma che non avendo mentalità difensiva lasciavano dei varchi clamorosi per quello dovevo necessariamente starli a switchare contro switchare switchare contro switchare per cercare di tenerli un po' ordinati però quando si riusciva a fare il gioco vedete come riuscivo bene a tenere il pallone ad allargare la manovra piano piano senza schiacciare il tasto della corsa infatti paradossalmente ho detto porca miseria giocare con questa squadra di portieri mi ha fatto ritornare un po' a giocare bene perché nelle ultime settimane tiravo dritto e basta ma ti hai visto pure qui Neuer che anticipo clamoroso che ha fatto a recuperare palla Neuer e Detersen vi giuro veramente metronomi del centrocampo qui per fortuna trappola del fuorigioco Silva si ritrova dietro l'ultimo difensore questo qui di Oblak è uno dei problemi che ho pure riscontrato il fatto che su quell'1-2 lì non potevo quasi mai andare a giocare la palla di prima perché perché sbagliavano il passaggio qui era uscito male perché ovviamente aspettandomi di avere un giocatore un po' più rapido sono uscito a stecca quindi c'è prima il miracolo di Yashin però poi giustamente sulla palla recuperata viene messa dentro per McLaren 2-1 quindi il nostro avversario qui con questo scudetto di pumba accorcia e si rifà sotto sembra anche aver riacquistato un po' di fiducia e sembra anche aver capito insomma come potermi mettere in difficoltà avete visto Neuer qua intanto che recupera automatico che ha fatto sbaglio poi l'uscita la palla arriva a Rafa meno male che prende il palo rischiamo veramente di prendere un 1-2 clamoroso però qui purtroppo con Pickford ma addormento perché c'era il pressing Armani un intervento clamoroso per allontanare il pallone qui addirittura cerco il filtrante epico su Masip che ovviamente non c'ha questa gran gamba per andare in campo aperto però bello il triangolo con Navas sull'esterno questa era praticamente l'azione base vedete scambi rapidi lì davanti a sfruttare gli 1-2 e cercare di mettere in difficoltà avversari che magari non erano bravissimi a difendere qui ho rosicato perché avevo Pickford poi la palla la palla mi è disisganciata da Pickford mi è andata su Armani e Armani mi ha perso il contrasto qui ricordo perfettamente quello che succede lui batte Pope la salva sulla linea arriva Tiago Silva sulla ribattuta che me l'ha buttata dentro non so se è peggio prendere gol da Oblak o da Tiago Silva probabilmente da Tiago Silva però intanto il parziale dice 2-2 al 35esimo e questa in particolare è una partita sentitissima perché arrivava dopo un paio di partite che avrei veramente meritato di vincere e che non sono riuscito a portare a casa veramente per una questione di centimetri perché vi ripeto una volta che i miei giocatori arrivavano stanchi era difficile andare a recuperare nei minuti finali magari andiamo un pochino avanti così saltiamo direttamente alle fasi salienti senza senza vederla tutta anche se è epica qui arriviamo al 45esimo vedete lui attiva il pressing io faccio fatica ad uscire ovviamente poi il minuto è quello che è palla scaricata su Stosilva che di destro scarica Nasaracca all'incrocio dei pali dove poteva entrare solamente a questo minuto quindi 3-2 rimonta completata parte del nostro avversario e io puntualmente tutte le partite nelle quali andavo sotto mi vedevo un po' diciamo perso no? perché porca miseria come fai a immaginarti una rimonta con sta squadra qui il tempo passa arriviamo al 53esimo sto filtrante incredibile su McLaren che attiva il turbo si lancia tiro a giro 4-2 al 53esimo io però devo dire la verità sapevo ovviamente che non era semplice quindi stavo sempre sul pezzo e dicevo dai non fa niente continuiamo continuiamo mi cercavo di gasarmi e infatti comunque la partita cerco di di gestirla guardate qui Masip che tunnel direzionale che gol che è andato a fare col mancino a giro raga io ve lo voglio far rivedere guardate qui che scambio tra Oblak e Masip Masip tunnel direzionale tiro a giro i portieri questi qui in particolare Masip e Oblak ma fanno il tunnel direzionale meglio di molti giocatori che ho provato offensivi raga vi giuro cioè Masip si speedboosta che è un amore quindi 4-3 partita parzialmente riaperta però so che devo comunque essere espostissimo a quelle che sono le manovre dell'avversario ed essere proprio impeccabile in difesa e cercare di sfruttare tutte le palle tutte le palle davanti arriviamo al 73 con questa bellissima palla recuperata guarda lo scambio tra Allison Ederson e Oblak Allison arriva all'interno dell'aria vede Oblak al centro col tiro a giro 4-4 ste palle non arrivavano mai in fondo non arrivavano mai in fondo al sacco della rete ve lo giuro era un'ansia perpetua quindi 4-4 rimonta completata io questo me lo immagino questo penso sia uno di quelli che ci è rimasto più male in questa weekend league perché veramente lui aveva la partita in pugno dopo essere andato sotto l'aveva recuperata qui prendo una bruttissima imbucata all'ottantottesimo con questo filtrante di McLaren su Cicciarito ma Franco Armani si immola lo mette faccia per terra e si becca solo il giallo solo il giallo però fallo tattico raga lo dovevo spendere che dovevo fa quindi finisce il secondo tempo arriviamo quindi ai tempi supplementari e guardate la stamina dei miei giocatori raga erano praticamente collassati giocatori senza stamina ai supplementari coi portieri però non mi demordo arrivo dentro l'area con Neuer subito Masip davanti la porta se ne va pure a mescolare raga Masip che giocatore Jordi Masip quindi 5 a 4 subito in avvio in avvio di ripresa primo tempo che scorre abbastanza sereno ci andrei invece diretto sul quello sul secondo che è quello più ricco di emozioni perché il mio avversario qui fa i cambi attiva il pressing guardate io qui non riesco a uscire da questa da questa situazione palla dentro di McLaren verso Pippo Caicedo nella zona Caicedo 5 a 5 al centotredicesimo qua raga mi ero visto tutto crollare addosso ve lo dico perché non solo l'avevo recuperata non solo era andato in vantaggio beccare sto gol così perché non riuscivo a uscire dal pressing visto che i miei giocatori erano veramente stanchi 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 mi era veramente presa a male però mancavano 5 minuti sapevo che se proprio dovevo giocarmi sta partita era meglio farlo nei 120 minuti e non ai rigori perché i miei giocatori hanno pochissimo di precisione rigore avrei potuto tirarli solo centrali praticamente e sarebbero stati strafacili da parare qui Neuer recupera una gran palla ma il miracolo lo fa Ederson poi scambio tra Oblak e Masip Masip mette a terra il portiere col mancino con 4 di piede debole la butta dentro Masip 6 a 5 al 118 e se ne va a mescolare sotto la curva io qua vi faccio vedere l'esultanza in sottofondo che merita veramente tanto qui ha alzato una barricata ragazzi ultimi due minuti palla recuperata da Pickford una smelinata di quelle epiche anzi palla verso Oblak addirittura me ne sono andato a cercare gloria qui davanti volevo dare palla a Masip per chiuderla ulteriormente partita che finisce qui sul 6 a 5 una rimonta epica quindi la risposta alla vostra domanda ma veramente giocato con 11 portieri e veramente sei riuscito a vincere le partite ma soprattutto a segnare ebbene sì ragazzi quindi quindi è assolutamente fattibile ma tutto questo per arrivare poi a quello che è stato il risultato della Weekend League perché questa challenge con 11 portieri è stata già fatta da diversi pro player e fino ad ora il massimo punteggio che era stato registrato è 7 quindi era praticamente Argento 3 invece abbiamo fatto 8 quindi sono riuscito a fare Argento 2 quindi abbiamo battuto praticamente il record peccato ripeto perché ho avuto una disconnessione e almeno 2-3 partite che si potevano vincere a 11 secondo me si può arrivare ma è veramente stradura perché avete visto le partite come sono basta che vi fanno un filtrante e entrano in porta quindi è stata veramente dura però mi sono divertito in chat i ragazzi si sono divertiti che hanno seguito a live trovati VOD sul canale Viola sulla piattaforma Viola quindi niente raga io volevo portare sto video insomma per fare un po' recap di questa mattata che trovate per intero sul tubo scusatemi sulla piattaforma Viola nei commenti magari lasciate qualche idea per le prossime Weekend League insomma qualche challenge simpatica che posso fare così insieme ai ragazzi di Instagram vediamo che cosa fare nelle prossime settimane vi ricordo di lasciare un like come vedete si può vincere anche con i quartieri quindi non disperate quando perdete le partite magari oltre al gioco cerchiamo di capire anche che insomma magari ci può essere qualche errore da parte nostra e soprattutto ricordiamoci che questa cosa l'ho fatta soprattutto per farvi capire che alla base deve esserci sempre il divertimento soprattutto in un periodo morto di FIFA come questo quindi mi raccomando raga iscrivetevi al canale in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola e niente un saluto nel vostro Liberoschi ciao ciao